Sono Raffaella Rossi, insegno storia e filosofia e nell'anno scolastico 2017-2018 sono stata un'insegnante del liceo di Castiglion Fiorentino. Come tale ho potuto partecipare al progetto di Erasmus Plus Team for Clill. Il viaggio all'estero è stata una prima volta nel testare le mie competenze linguistiche ed è stata un'esperienza umanamente arricchente nel relazionarmi con la famiglia ospitante, a scuola, nelle uscite a Manchester e Liverpool. Ho potuto apprezzare pur in così poco tempo una certa varietà di pronunce e di tradizioni. Riportando questa mia esperienza a scuola ho cercato di favorire maggiori occasioni in cui utilizzare fonti in lingua originale in classe, anche solo atteggendo a siti online, perché i ragazzi possano toccare con mano altre esperienze e altri vissuti e allargare così il loro orizzonte come è accaduto a me. Gli insegnanti di lingua e di metodologia Clill della Scuola di Lingua Conlan e dell'Università di Manchester ci hanno proposto percorsi fornendoci sempre motivazioni didattiche ed educative e ci hanno proposto strumenti ed esempi di esecuzione di lezioni che sono risultati immediatamente spendibili poi nella nostra scuola in Italia. Un'esperienza significativa è stata la visita alla Chrysleton High School di Chester presso la quale sono stata accolta come osservatrice all'interno di lezioni di storia, marketing e comunicazione incontrando studenti dietro a compresa tra i 12 e i 17 anni. Ho potuto apprezzare la gestione del tempo nell'arco della giornata e nella ripartizione delle attività nelle singole ore di lezione. La didattica tiene conto della motivazione dello studente e lavora sulle sue potenzialità piuttosto che sulle sue fragilità per cui le attività erano spesso interattive suddivise per compiti parziali e spesso di tipo pratico tese a favorire la partecipazione attiva in classe di ogni studente. Sono grata di questa esperienza e so che la progettazione e l'implementazione del Team for Clill è stato molto molto impegnativo per questo voglio ringraziare gli insegnanti che l'hanno reso possibile in particolare Daniela Calzoni, il preside, il professor Maccarini e tutto il personale amministrativo e le mie compagne d'avventura. Bye bye!